E' terminata la prima serata di selezione per la nuova rappresentativa regionale Lombarda giovanissime, qua con noi Davide dell'Arcumeta mentre vediamo le fasi di allenamento, chiediamoli un commento su questa serata. Allora penso che questa serata sia andata molto bene proprio perché molti dei nostri giocatori sono stati presi per continuare questo esperimento della Lega Lombardia, penso sia una buona qualità anche che dobbiamo portare in giro con il buon calcio della Lombardia. La Comunità ne va fiera. Grazie Davide per l'intervista, ci vediamo la prossima settimana. Ciao a tutti. Grazie.